Lo sapete, tendo sempre a cercare qualche chicca nuova dedicata alla produttività, non è un lavoro proprio semplicissimo, soprattutto testare tutte queste app, quindi mi farebbe piacere un bel like, mi raccomando. E oggi torno da voi per un'applicazione, secondo me molto figa, perché tendi ad unire, almeno questo è quello che percepisco, voglio sottolineare questa cosa, non l'ho proprio studiata ancora al 100%, la sto provando da qualche giorno e la percepisco in maniera molto positiva, adesso ve ne parlo e vi dico questo perché effettivamente la vedo positiva come situazione, perché effettivamente tende ad unire Notion e Obsidian in un'unica applicazione, questa app si chiama AnyType ed è un'applicazione gratuita, disponibile sia per Android che per iOS, che per iPad, che per Windows, che per Mac, che per tutto quello che volete, quindi ottimo anche sotto questo punto di vista, ma senza perderci in troppe chiacchiere, io direi di andare direttamente proprio sul PC e iniziare a smanettare un pochettino, ci facciamo una bella panoramica generale, poi qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, questa è una pagina che come vedete ho creato proprio per già farvi capire più o meno di che cosa si tratta in un certo senso, come vedete esteticamente è molto piacevole o perlomeno a me piace veramente tanto, questo perché è molto minimal, pulita e in un certo senso dà un po' quel, diciamo, quel look professionale che ci sta, di sicuro non è nuova in un certo senso, prende molto ispirazione appunto come vi ho detto da Notion e Obsidian ma le unisce in maniera molto interessante, ma capiamo anche perché questo, partendo prima di tutto da questa pagina che ho creato appunto per farvi un esempio e per farvi capire al meglio un attimino di che cosa stiamo parlando, come vedete questa è un po' una macro di tutto quello che più o meno si può fare, almeno per il momento, perché da quello che ho capito è ancora un po' in fase di strutturazione, cioè tendono sempre a migliorarla e così via, ma appunto voglio fare anche altre ricerche quindi vedremo, ma cosa c'è qui? Beh, vedete un po' di testo semplicissimo, questo è un H2 che ho inserito, qui ovviamente vedete qualche esempio per quanto riguarda le liste, ovviamente si possono fare liste normali, liste numerate e to-do list che tra l'altro sono pure molto carine, come vedete anche esteticamente, mi piace veramente tanto come applicazione e per quando possa sembrare una sciocchezza l'estetica fa appunto sempre una buona parte e come vedete come avviene un po' in Notion ma anche in Obsidian, potete creare delle pagine all'interno di queste pagine e come per Obsidian le potete anche collegare, ma procediamo con ordine che poi vi faccio vedere, qui vedete che ho creato una semplice pagina, come vedete di tipologia pagina proprio, vedete qui ci sono note, page, task, ci sono diverse tipologie che adesso procedendo con ordine vi faccio capire proprio di che cosa si tratta effettivamente e devo tornare indietro qui, bene, ottimo e da questa parte poi vedete che si possono aggiungere delle tabelle, tra l'altro questa mi ricorda un po' anche appunto Evernote, le note di Apple e così via e più in basso c'è un altro collegamento direttissimo a appunto Notion, o meglio la possibilità di aggiungere queste qui che sono praticamente delle griglie in un certo senso, quello che poi abbiamo delle tabelle che abbiamo poi su Notion, poi abbiamo qui la visione Grid, Gallery che abbiamo appunto sempre anche su Notion e Kanban che è molto figo e che riprende ovviamente in maniera molto diciamo diretta sempre Notion e da questa parte poi vedete che potete aggiungere un po' tutto quello che volete come avviene sempre appunto su Notion, è un'app che ovviamente prende ispirazione e si capisce che effettivamente è quella, tra l'altro mi hanno dimenticato di aggiungere le liste e non è che sta copiando, sta prendendo il meglio secondo me di quelle che sono le app perché alla fine ragazzi non è che si possono inventare cose pazzesche nel momento in cui devono creare un'applicazione ma devono prendere il meglio dalle app secondo me e unirle in un'unica app perché la perfezione non esiste però in questo modo ci si avvicina in maniera molto interessante e questa è un po' una macro generale di quella che è l'applicazione. Da questa parte, sulla parte sinistra avete tutte quelle che sono diciamo i widget in un certo senso che avete aggiunto, io qui ho aggiunto semplicemente recenti e favoriti e nei favoriti vi faccio vedere che cosa ho fatto, beh ho esportato, anzi scusatemi, ho importato tutte le note in Markdown da Obsidian a qui e me le ha ordinate già belle che in una cartella che ho rintitolato appunto appunti da Obsidian e qui vedete che mi ha inserito appunto la data di creazione e poi da questa parte invece un tag che ovviamente potete aggiungere come preferite come avviene anche appunto sempre tornando al nostro discorso su Notion e tutte le altre applicazioni, non lo dirò più ve lo prometto. Da questa parte poi avete tutte quelle che sono le note che avete preso e perché si collega in maniera così interessante a Obsidian? Perché dico questo? Beh grazie anche a questa possibilità o meglio la possibilità di avere un grafo perché senza prenderci in giro è proprio un grafo, lo dicevo in alto. E che cosa fa? Beh vi fa vedere appunto come avete collegato, se li avete collegate, le note e appunto vi forma questo cervello un po' digitale che tanto mi piace avere appunto su Obsidian che tra l'altro sto utilizzando con tanto piacere ancora, ne parleremo magari se volete sempre qui su questo canale ovviamente fatelo sapere qui sotto nei commenti e come vedete qui ci sono un po' tutti i collegamenti, per esempio da questa parte ho realizzato una prova prova video che poi ho collegato a pagina 1, pagina di esempi, prova 2, prova numero 3 e così via e qui poi c'è la pagina principale, se io cerco di entrare da questa parte vedete che c'è questa pagina qui dalle altre parti c'è ovviamente invece la prova 3 eccetera eccetera quindi potete gestirvela un po' come volete, ok? Stessa cosa anche per quanto riguarda questa parte qui io all'interno adesso, ovviamente l'app non ve le collega automaticamente dovrei andare da questa parte per esempio e andare a collegare in maniera molto semplice vi faccio vedere, ecco, con una chiocciola questa nota ha appunti da Obsidian fatto questo, come vedete, se io vado da questa parte vedete che ho tutto bello che è collegato proprio come avviene con Obsidian e questo è un po' tutto quello che riguarda la, diciamo, una visione generale di questa applicazione e già queste due funzioni mi piacciono particolarmente, devo essere sincero con voi ma proseguendo ancora, qui creando una nuova pagina vediamo già che l'app si predispone in modo, diciamo, molto intelligente nel senso vi mette già a disposizione la possibilità di creare una pagina in maniera molto diletta una pagina per i task che poi potete collegare magari ad un'altra pagina e delle collection che sarebbe poi la visione che abbiamo visto prima per quanto riguarda gli elenchi per capirci meglio entro sempre nella solita pagina eccola qui, questa viene visualizzata come collection, ok? stessa cosa anche da questa parte, vedete qui c'è collection perfetto, detto questo noi ci chiamiamo una pagina partendo da zero una page e vediamo un po' quello che si può fare partendo da un titolo molto bene da questa parte posso aggiungere un, diciamo, un emoji per come avviene poi in generale anche su Notion e una cover proprio come ragazzi è proprio identica, certe cose le ha proprio prese ai pali pari per fare questa applicazione noi ci inseriamo questa come visione tra l'altro ragazzi è proprio graficamente piacevole e sembra quasi più qualitative esteticamente rispetto a Notion cose mie personali però è fatta proprio bene a me se le cose piacciono potete anche cambiare il layout c'è quello basic che state vedendo c'è profile c'è profile, profilo quello del profilo che potete mettere un'immagine qui da in generale come preferite c'è action che si collega un po' anche al discorso del to-do list quindi nei momenti in cui quel lavoro magari l'avete finito l'andate a spuntare in maniera molto semplice da questa parte oppure c'è note che è l'applicazione diciamo la visione un po' più minima un po' più semplice che si collega un po' anche a tutte le altre applicazioni di note ok? noi ci lasciamo basic che ci piace e qui all'interno cosa possiamo fare? possiamo aggiungere una descrizione da questa parte ok? e più in basso proprio come avviene in altre applicazioni andiamo questo slash non so mai come chiamarlo ci siamo capiti per poi accedere a tutti quelli che sono le scorciatoie qui per esempio vedete text vedete title, ending, eccetera, eccetera ma automaticamente vi legge proprio come in Notion per esempio H1 ci legge l'H2 ci legge l'H3 in maniera automatica quindi non è che dovete scrivere title, eccetera, eccetera il che è decisamente comodo questo perché ha una struttura che si basa comunque su quello che è la scrittura in Markdown cioè le legge, li fa, li esporta senza alcun problema tra l'altro, piccola parentesi dalle impostazioni importare le cose da Notion, in Markdown, HTML, TXT e questo qui che non so assolutamente di che cose di grande vabbè tornando a noi andiamo in titolo qui c'è il nostro slash andiamo da questa parte e vedete tutte un po' quelle che sono le possibilità callout, checkbox quindi le to-do list liste toggle quindi la possibilità di scrivere poi qui sotto automaticamente proprio come in Notion altre cose quindi per esempio vedete la stessa cosa anche per quanto riguarda le to-do list c'è bisogno che scrivo check ma basta scrivere to-do lancio con invio e posso scrivere appunto quello che devo fare cioè il comando è semplice da lanciare e capisce subito proprio come in Notion su applicazioni simili quindi ci sta qui vado a evidenziare un attimino il tutto lo elimino e vado da questa parte per vedere tutte le altre possibilità avete la possibilità di aggiungere un file un'immagine un video degli audio un pdf bookmark c'è il codice qui ci sono le linee per distanziare un po' le cose queste sono delle cose che vi permettono di gestire al meglio un po' l'immagine come la pagina voglio dire come per esempio table e poi qui ci sono le varie strutture di pagine cosa che vi permette in un certo senso di avere una specie di template sempre a portata di mano nel momento in cui dovete creare una pagina ovviamente potete anche crearne dei personalizzati per esempio se io clicco su task vedete mi apre una pagina con i task io qui quindi mi lancerò le cose da fare qui gli lancio i dettagli vi faccio vedere quello che potrebbe essere un esempio di utilizzo b-roll cose a caso per il video e poi albicoc bene ok io da questa parte faccio così queste sono le cose da fare qui magari mi scrivo il mio video albicoc review ok e questo qui io posso fare anche in questo modo me lo collego a titolo quindi cosa succede andiamo da questa parte vedete è collegato a questa pagina qui che sarebbe la nostra recensione chiamiamola recensione se io vado nel grafo vedete che ho tutto collegato quindi qui avrò lo script per esempio da questa parte avrò le to-do list e quindi le cose che effettivamente devo fare per quel video ve la sto spiegando un po' così in maniera molto spartana ma se mi capite e mi seguite da tanto e sapete un po' di cosa stiamo parlando in generale per quanto riguarda le applicazioni sapete bene di che cosa si parla e di che cosa effettivamente sto facendo se poi volete chiaramente eccetera eccetera ditemelo qui sotto nei commenti ma vi ripeto questo è un video macro che vi vuole far vedere un po' le potenziali di questa applicazione perché secondo me è interessante soprattutto se viene sviluppata poi bene tra l'altro si sincronizza con tutti i dispositivi con tutti gli account in maniera anche molto diversa non avete bisogno di un account effettivamente ma per entrare e collegare i vostri dispositivi e sincronizzare avete bisogno di una scannerizzazione del QR oppure di inserire determinate parole chiavi quindi anche la sicurezza è molto interessante ma voglio anche sotto questo punto di vista approfondire ancora di più io vi lascio tutti i link in descrizione e quindi se volete approfondire potete farlo e magari nei commenti se sapete già qualcosa in più ditemelo sempre qui sotto tra l'altro tornando a noi per quanto riguarda le liste vedete che qui c'è lo status quindi in progress, down quindi già fatto e to do quindi che semplicemente segnate in un certo senso mentre da questa parte potete inserire ovviamente anche la data e stop ragazzi ci sono poi diverse possibilità potremmo stare qui a parlarne per ore qui ci sono veramente tantissimi esempi qui ci sono altri esempi ancora per esempio movie vedete che perdonatemi vi fa un attimino gestire il tutto al meglio non riesco va bene vedete vi fa gestire il tutto al meglio per esempio qui potete crearvi un vostro grazie a questo template una vostra playlist di film e quindi magari mettere il direttore quanto vi è piaciuto e tutte queste qui il trailer tutti i vari link eccetera eccetera molto bella come applicazione mi piace tanto e secondo me ha delle belle potenzialità se se la giocano bene potrebbe effettivamente competere in maniera super interessante e aggressiva proprio con Notion e Obsidian ma vedremo il tempo solo ci saprà dire naturalmente sicuramente mi sono dimenticato qualcosa però in generale vi ho detto un po' tutto vi ho fatto vedere un po' tutte quelle che sono le possibilità di questa applicazione approfondirò e approfondiremo ma voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti cioè fatemi sapere se vi interessa un approfondimento sotto questo punto di vista io ovviamente come base ho ancora Notion e Obsidian non sono passato da questa applicazione perché ho bisogno di studiarla ancora molto però volevo proprio condividere con voi questa possibilità perché è molto interessante poi è gratuita quindi provarla non costa veramente nulla fatemi sapere mi raccomando qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate se avete consigli e cose varie beh scrivetelo ci vediamo prossimamente sempre qui su canale per nuovi video e nulla io torno a studiare a giochicchiare e a scoprire nuove applicazioni alla prossima grazie a tutti